FinTV a Cine, giornate di cinema di Riccione 2018, siamo in compagnia di Alessandro Giacobbe che è il managing director di Academy 2. Presentato il listino, come al solito voi ricco di cinema di qualità, partirei dal primo film, cioè In guerra, di Brisé, se hai voglia di introdurci al listino attraverso questo film. Sì, certamente è uno dei nostri titoli di punta. In guerra, Stefan Brisé ritorna sui temi a lui cari del mondo del lavoro dopo la legge del mercato. In guerra è stato presentato in concorso all'ultimo festival di Cannes, ha riscosso un successo impressionante, uno dei più lunghi applausi in sala grande e con uno straordinario Vincent Lindon che nuovamente è il protagonista del film. Come abbiamo detto, è un tema del lavoro molto importante e sul quale il regista spesso si concentra. In questo caso parliamo di una fabbrica in procinto di essere chiusa dalla multinazionale e quindi di una lotta sindacale molto dura che appunto determina anche il titolo un po' violento in guerra ma si è trattato veramente, in questo caso, di una guerra sindacale molto forte. Sì, sembrava diciamo obbligatorio lasciare il corrispettivo italiano del titolo francese perché è talmente forte. Ci abbiamo pensato a lungo ma alla fine abbiamo deciso di mantenere la traduzione letterale del titolo francese. Sì, devo dire, avete fatto bene, è anche una scelta abbastanza politica questa, quindi insomma credo che fosse anche nelle corde di quello che Brisé voleva dire con il film. Rimanendo nel cinema d'autore, insomma, come è vostra tradizione, qui passiamo però in Germania, Christian Petzold, molto amato dai cinefili, La donna dello scrittore, anche in questo caso un film accompagnato dal successo ai festival. Sì, in questo caso parliamo di Berlino, Christian Petzold era in concorso all'ultimo festival di Berlino e il film è un melodramma che però non nasconde anche qui dei temi importanti. Parliamo della seconda guerra mondiale, diciamo il tentativo di molti ebrei di fuggire dalla Francia via nave e in questo caso la donna dello scrittore che sta cercando un passaggio, un transit, che è poi il titolo originale del film, per il marito scrittore che deve fuggire in Messico. È un melodramma, una storia d'amore in un contesto però molto importante e con una lettura, lo vedranno gli spettatori con le prime immagini, molto attuale perché è sì una storia della seconda guerra mondiale ma con un'ambientazione contemporanea. Sì, come poi Petzold ama molto lavorare su questo rapporto tra la contemporaneità e il passato da lui rielaborato. Questo stiamo parlando di un'uscita a novembre? In linea di massima dovrebbe essere in autunno, sì. In autunno comunque. Birds of Passage, qui passiamo ancora a un altro tipo di tipologia di cinema ma forse su questo vale la pena dire due parole. Beh, innanzitutto direi che è importante ricordare Ciro Guerra, il regista che con la moglie ha diretto il film. Ciro Guerra è stato candidato nella cinquina degli ultimi Oscar con l'Abraccio del serpente. In questo caso la storia invece si svolge in Colombia. Parliamo delle origini del traffico di droga partendo dalla storia delle tribù che per prima dalla pastorizia delle attività contadine hanno in qualche modo scoperto la ricchezza tra virgolette che avevano per le mani e hanno iniziato per primi a instradare il traffico di droga verso gli Stati Uniti d'America. La ricchezza che però porterà queste tradizioni contadine a trasformarsi in un business e come business diventerà poi una lotta tra famiglie, tra le varie tribù, quindi una faida tribale che è proprio all'origine di questo traffico. Quindi in qualche modo alla scoperta delle origini di Narcos o di Escobar. Molto interessante anche questo. Quindi questo è Birds of Passage di Cristina Gallego e Ciro Guerra. Non abbiamo naturalmente la possibilità di vedere nel dettaglio tutti i film del vostro listino. Ti chiedo come chiosa di scegliere tu un film al quale però tieni particolarmente che vuoi che ci annotiamo sul tacuino. È difficile però diciamo che volendo toccare una nota un po' più lieve abbiamo un film indiano che abbiamo preso all'ultimo festival di Cannes ed era tra l'altro stato selezionato dalla settimana della critica si tratta di Sir al quale noi abbiamo aggiunto il sottotitolo Una Cenerentola Mumbai proprio perché è una storia di emancipazione molto simile se vogliamo ricalca un po' le note della favola di Cenerentola in quanto parla di questa ragazza di un villaggio indiano che essendo rimasta vedova molto giovane e quindi entrata di fatto in una classe reietta da parte della società indiana in quanto vedova avrà però una possibilità di riscatto con una storia d'amore con un rampollo della borghesia di Mumbai. Ti ringraziamo molto e in bocca al lupo accademi tu allora per il listino. Grazie a te.